Coronavirus oggi in Calabria 433 nuovi positivi, 5 i morti. Ancora proteste in ambito sanitario, dopo l'ASP di Cosenza, 5 persone hanno occupato gli uffici del commissario alla Sanità Sittin anche a Roma. Porto di Gioia Tauro, il viceministro Morelli può essere uno scalo centrale per l'Italia e l'Unione Europea. Calcio dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Crotone cerca riscatto ospitando l'Udinese, ma le chance di salvezza sono ormai minime. Calcio dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Crotone cerca riscatto ospitando l'Udinese, ma le chance di salvezza sono ormai minime.